Ciac si gira. Che cosa significa essere un atleta di alto livello? Allora, possiamo dare varie risposte. Forse se diamo una risposta tecnica possiamo dire che un atleta di alto livello, professionista, è una persona che si dedica 100% allo sport. Se poi vogliamo dare un'impronta diversa, nel senso vogliamo dare una spiegazione diversa, un atleta di alto livello, è una persona come tante altre, che però cerca tramite lo sport di trovare il suo equilibrio, la sua filosofia o meglio quello che lo rappresenta tramite una performance che effettivamente deve fare tutti i giorni, che poi comunque deve superare i suoi limiti. Nel momento finale della gara è il momento in cui dipinge questa performance. Quindi è una persona che si dedica la sua vita momentanea allo sport, ma soprattutto è un gesto, è un qualcosa che esprime quella persona. Il mio equilibrio l'ho trovato e devo dire che comunque sono uno che lo trova ma poi subito cerca di disequilibrarsi. Nel senso che effettivamente per mia natura, visto che sono comunque uno curioso, uno che cerca di vedere anche le cose in maniera diversa, soprattutto più vai avanti, più cerchi di trovare delle soluzioni o delle angolazioni diverse, quindi sì l'ho trovato ma poi effettivamente giorno per giorno ti scontri anche con dei limiti diversi, perché poi quando trovi un equilibrio non rimani lì. Purtroppo la performance è sempre così, ma è come la vita, è tutto, è un altalenarsi di situazioni, quindi l'equilibrio sì l'ho trovato ma ne devo trovare sempre uno di nuovo. Quando smetterò di fare triathlon? Guarda, allora, credo che per fare lo sport ad alto livello c'è anche un'altra cosa, devi essere un competitor, soprattutto un competitor con te stesso, nel senso che devi sempre trovare benzina per metterti a confronto e cercare di comunque superare i tuoi limiti e soprattutto quelli fisici in questo momento. Finché avrò benzina per cercare di superare i miei limiti fisici, allora probabilmente continuo a fare triathlon. Quindi verso Tokyo è più una lotta interiore o una lotta con gli avversari, che siano in casa o fuori? Ma credo non sia tanto una lotta, credo sia più una pace interiore, perché sai ci sono dei momenti in cui magari quando ti succedono infortuni, ti succedono che non ti va bene una gara, brutti risultati e pensi che, caspita, che non va bene, magari la sfiga o magari qualcosa che non va e alla fine capisci che fa tutto parte del gioco, è così. Quindi forse quello che mi piace di più è trovare la pace interiore, perché poi è una conseguenza di quello che tu fai. gioia lo dice sempre, stai nel processo, fai quello che devi fare e poi vedrai che le cose avvengono. Ed è un po' così. Certe volte ci affanniamo a trovare la soluzione e la soluzione c'è già. Basterebbe solo fermarsi un po', rimanere dove si è e non farsi tante segmentali. Molto zen è veramente visto che andiamo...